Ciao a tutti ragazzi, qui sempre Frost e bentornati qui sul canale di Brains and Games con me Per iniziare l'attesissimo episodio numero 9 Sì, ci avviciniamo alla fine del gioco, finalmente E nulla, ci eravamo lasciati con l'otto che era successo un casino assurdo nella casa di Aquaman E nulla, torniamo qui nel giorno dell'indipendenza più carichi che mai Nel mentre abbiamo aggiornato un attimo il canale, abbiamo fatto nuovi acquisti E abbiamo anche delle sorprese per voi nel cassetto Ma ve le sveleremo in futuro Quindi lasciamo i sogni nel cassetto e lanciamoci in game Radio, uniformi, C4, attrezzatura da sub, imbracature, cavi e un robot scassinatore Quindi siamo a posto? Siamo a posto Andiamo a Maiani Aspetta, dobbiamo dare un'altra ripulita a questo posto, non possiamo lasciare nessuna prova Ok Ditemi quando si parte Ma che cazzo è questo rumore? Ma che cazzo è questo rumore? Ma che cazzo è questo rumore? Uh Grazie Criscosta per i tuoi allenamenti No Ok Che inizio spumeggiante Dritto alla segreteria del morto Probabilmente Dose vorrà un aggiornamento Io ne mando uno Allora avevo ragione a pensare che lui fosse il topo di Fognane della situazione Puzzava Puzzava di pesce a marcio Puzzava di pesce a marcio Forza Pryson, dove diavolo sei? Ormai dovrebbe essere uscito Hai passata più di un'ora Magari si è perso Sulla porta c'è un cartello che indica la cisterna È così complicato Ehi ragazzi, scusate, mi sono perso Puzzava di pesce a marcio Trovare la cisterna è stato facile Trovare lo scassino Puzzle bell, secondo ti Vai con la banda al furgone Andami E vacca se sei pesante Ah ok Puzzava Un momento, i grattacieli hanno tutti una cisterna sul tetto da queste parti Sì, la maggior parte Ravviene le oscillazioni in casa di uretto Cazzo Tra ascensori biometrici e vetri antiproiettile Dose penserà che il suo attico sia inespugnabile Immagino che lo scopriremo Forza, Tyson lancerà il cavo da un momento all'altro Pronto? Ah no, niente Ecco il furgone Dai, prima che arrivi il vernice ce lo tolga Ma Dio mio quanto sei lento Ah no, di là Ok, salgo, salgo Con calma Ok, il momento Forza, abbiamo fretta, boomer Lo so Una cosa Siamo proprio sicuri di volerlo fare Un po' tardi adesso Che ne dici? Stavo solo chiedendo Se un milione di litri d'acqua stesse per arrivarmi in testa 660.000 O 760.000 quanti sono Vorrei essere sicuro di non farmi male Dico solo questo Se conosci un altro modo per arrivare all'attico, fa pure E far saltare la cisterna è stata una tua idea Sembrava molto più fatibile quando non stavamo per farlo da te Che bella merenda per la scuola Se voi ci scrivo sopra bomba Ok Oddio No, 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 no Proprio Non avete capito una fava Oh, abbiamo un G36 Proviamo un G36 Sì, col silenziato Ah no, l'alvan già provato Non mi ricordo Comunque andiamo di 1911 A posto così Ok Sta missione mi sta facendo bestemmiare non poco Quindi io direi di andare da quella parte Non è detto che ci debbano vedere Perfetto, non ci hanno visto No, 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 non avete trovato niente Tranquilli Continuate a cercare Ma potete anche smettere di cercare Non c'è niente davvero Ve lo giuro Ve lo giuro Ok No, stavolta Stavolta Tutti e due Ehi, ehi Ma che cazzo Ehi, ehi Cinesino Giù Sono tanti cinesini come te che sono andati giù in questo gioco, sai Ah, è un negretto Ok Quello cos'è? Mmm, ok Niente Oh Porca di quella Eva Ho sparato con la pistola E non aveva il scienziatore Benissimo Ok Ok Non mi vedrete Non mi vedrete Non mi vedrete Cos'è che fai di lavoro tu? Non ho capito Ok E un andato Giù Stiamo cazzeggiando Ah, ok Se stai cazzeggiando tu Dai Giù Cavolo, è vero? Non sono più un poliziotto Oh, sì Apri lo scanner Se vedete qualcuno Sparati Ok Usiamo le Eh, la madonna Ma quanta gente c'è? Eh, vacca Attenzione a tutto Ma c'è con ti? Ogga, è troppa ginta Giù Ma, ma, ma Ma, ma Cioè, ma Dai Eh, eh Eh, vabbè Dovevo Ok Bene Salve Cominciamo bene Eh, vabbè Mi sono rotto le balle Di fammi stealth E Cristo Dopo un po' Ok Cos'è questo? Ah, devo Eh, vacca Mi scusi Ok Allora, datemi qualcosa di più succoso Perché Ecco, per esempio Questo E va benissimo Con un calcio E Una canna pesante Sì, dai Con una mimetica Ganzissima Tipo È così Tipo Tigre cacciatore Via, così A brutto proprio Eh, lo vedi cosa? Cristo, muori Ok Di nuovo Mi scusi Ah Eh, vabbè Mi sono sbagliato Non l'avevo letto bene Scusi Deve esserci un'indizione Eh sì, eh Deve esserci un'indizione È il solito Ah Sbagliato A posto Ok Perfetto Via Via che andiamo Via che andamia Entriamo Signorina Prego Ah, eh Scusi Vediamo se c'è anche qui L'ister egg Eh sì È là Allora andiamo al ventesimo Vediamo un po' Quattro Eh sì Ok Salsa di pesce Sugli hot dog Cristo sei strana Figlia mia No ragazzi Non avete proprio capito Cioè io Non mi metto a fare lo stealth In questa missione Cioè Hard line E da Cioè proprio Da smitragliare Selvaggiamente Tutte le persone Possibili Quindi vai giù Eh Ma che bella La cipollina Che abbiamo lì dietro Giù Anche lei Scenda E beh Se li becchiamo Con le mani Nel sacco E vaca Gli è un po' di ginta Ma proprio poca Ma guardi Va tutto bene Non c'è niente Che non va Guardi Sono nel mio ufficio Alla mia postazione Di lavoro Cioè Allora Allora Mi scusi Gli altri Non mi hanno sentito Non chiedetemi come Dai Tutti e tre Tutti e tre Vi prego Guarda l'altro Tu guarda l'altro E vabbè Firma quella Vacca bestia Di allarme E vabbè Ma cos'è Mac 10 Io niga Ok È andato E si rusha Si rusha tantissimo Eccolo lì Il piede di porco Il simbolo Di hardline Ok Ciao Ties Complimenti L'astinenza È una brutta bestia Lo so Ah Noi due Siamo pazzi Bene Cioè Ah Ho il c4 Fantastico Oddio ma perché mio padre urla Dio santo Ok si entra di qui Buondì Anzi buon suarge Che ci siamo Vai di porco Cioè di piede di porco Metti la maschera Sì Sicuro di volerlo fare Beh Figa certo Che sorbole di cellulare era Boh Molta fiducia Nel colpo Complimenti Selfie Ah Eh madonna Ma perché siamo Col Vestiti da subacquei Oddio Oddio Eh Eh Ah Ecco perché Parlava del cosone Con l'acqua sopra Il bombolone Con l'acqua Sul Ok Eh Sull'edificio Dovevano farlo esplodere Eh Ehm Ok Signora Ah ok Devo andare su in così No 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 Ci vorrebbe La musica di Waterloo adesso Si Waterworld Che cacchio dico Waterloo Vabbè Lasciamo perdere No Oh La canzone di Samula è merlino Quando sono sotto l'acqua Infantia sprecata Io col cacchio Beh Perfetto Cioè Allora abbiamo Annegato Mezzo edificio Soltanto per arrivare su Bagnati i fradici Secondi Eh Ok Fai entrare Tyson Ok Ci siamo Ah Salve Tais E' bello Vedere che siete entrambi Ancora Devo riconoscerlo Per essere un ex poliziotto Lo usa Bungus E' quello Un tavolino da caffè Da 24.000 dollari E' vacca bestia Hai presente quelle riviste per ricchi Che in realtà nessun ricco legge? Io la leggo invece A differenza di voi due barbari So apprezzare le cose raffinate Sì sì certo Apprezzare Che cazzo è Merda Bella domanda Ok Cerchiamo tutti Deposito deve Trova il depo Sì Ok E la madonna Qualcosa mi dice Che da bambino Dos leggeva parecchi fumetti La mia mentalità barbina Questa volta Non mi ha tradito Cacchia Un terraformante In miniatura Così dovrebbe andare Ah beh Se lo dice lei Ah Parte da solo E' vacca Sì io scommetto Che quelle finestre Si romperanno E arriverà un trilione Di Di nemici Ecco E te parlo Devo cominciare a stare Zitto Madonna Ok Sono calmo Sono calmissimo Ah Ok Prontissimo Ci sono delle armi Nell'ufficio di Doos Ci sono delle armi Nell'ufficio di Doos Ok Da quei corridoi No Sorbo l'arrivo Ma questa è la camera Relata Non è l'ufficio Mi scusi Quali mini in campo Io ne metto una qua Apri lo scanner Ecco Sapevo io che c'era qualcosa Oh 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 Vaca bestia Arrivano No dai Non fate i barboni Andate avanti E vacca bestia Dai Continuate a cercare Ok Diversivo fatto Devo soltanto Inchiappettare Gli altri Cosa non molto facile Però ci proviamo Ma che ma che ma cosa Basta stealth Cristule Oh Cristo Oh Headshot Oh Via Via Salve E' morta anche lei Ecco L'unica cosa che qui servirebbe Non c'è Una cacchio di granata Cioè vi siete presi C4 Robottini che aprono Le porte da soli Cinesi mestruate Tutto quanto E non avete le granate Madonna E ci devo pensare io Ovviamente La cosa Ok Ok Mi scusi No No Io vado di Mach 10 Pesante Io io niga Ok Perfetto E siete andati Oh Oddio Oddio No 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 Io ho paura del buio Ma cosa Ecco ne altri Io non so dove sono Ah ok Eccolo dov'è Perfetto Eeeh Si Andiamo di AK47 Cattivi Proprio Cioè Allora Eeeh Ma c'è l'imbarazzo Della scelta Eeeh Ok 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 Perfetto No no Ho sbagliato Dovevo fare l'ultima cosa Ecco Non ho messo Un cacchio di mirino Al cacchio di Mach 10 Che è una cacchio di arma Potentissima Cacchio Ok Non vedo un tubo Davvero Cioè non vedo E la madonna Venghino pure Venghino venghino Salve Perfetto Dovrebbero Dovrebbero essercene 80.000 Tipo Ecco Perfetto Tipo Il primo Era quello Poi Ne ho visto uno No Questi sono i miei Quello no 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 mi scusi Dov'è 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 Ah è lì E Cristo Sembrava un elicottero Con quella Cavolo di Di Eh qua Qua Sembrano dei cavolo Di elicotteri Ok Ok Mach 10 Non lasciarmi ora E vaca Ok Dai Su Definisci Mi I nemici Perfetto Cristo Ho finito i colpi Ok Ricarico Tantissimo No Ok E vaca Complimenti No 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 Non adesso Sono morto Sono morto Di sicuro Ci gioco Ci gioco le bolas Che sono Sono vivo Sono vivo Sì Cristo Sopravvivi Secondi Ok Ci abbiamo fatta Ci abbiamo fatta Ci abbiamo fatta Secondi Felicità Facciamo esplodere tutto Bravo robottino Che apre le cose da solo E' aperto No 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 Cristo è morto Tais Oh Sorbole Che bella notizia Bastardo Con lo stesso cellulare Che simpaticone Vai alla barca Subito Sì Che cacchio Vedi Tai Partire così A cazzo Oh 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 Una mossa Veccia Oddio Non guardare giù Frost Non guardare giù Cristo Soffre di vertigini Anche nella vita reale Oh no 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 aspetta Non l'ho capi Eh ho finti i colpi Scusi Oh vaca L'albero della cuccagna Maia Ma che cacchio è sta missione Sono diventato spiderman Ah Eh ma vaca Ma poveretto Quello lì Ah ok C'è non è ancora Fi No 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 Giù Adesso giù No La granata Adesso No Vi prego Abbiate Pietà Eh sto arrivando Qui ci sono cattivi E vaca bestia Si No 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 Secondi No 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 Ricarica E muori Perfetto No no Aspetta Ok Perfetto Vado alla barca Un attimo Eh vabbè Granate Signori Non ne abbiamo Non ne abbiamo Perfetto Secondi Ok 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 Ci siamo Ci siamo Calmissimo Frost Secondi Sono calmissimo Oddio Ok perfetto Cambia Cambia Prendi il magnum Prendi il magnum Non ci sa mai Ok Andiamo Andiamo Via 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 Svicolo Tutta macina No aspetta Questa è la barca Ah ok Pensavo fosse la barca Avevo detto Che cacchio Arriviamo al covo domani Guarda a me mi puzza un sacco di trenello ma tranquillo Mendoza a fare i tuoi Bene ragazzi Mi è finito anche il non episodio E ci aspetta il decimo L'ascito La fine Finalmente Vacca bestia Comunque ok scusate un attimo la cosa Grazie di essere stati con me E ci vediamo al prossimo episodio Ciao Ciao